Il lunedì di Vicenza Oro Settembre ha puntato i riflettori sui diamanti. JC, realtà internazionale di analisi, ricerca e formazione gemmologica e EDGR, che fa capo al gruppo The Beers, hanno organizzato una conferenza sul tema intitolata Sintetico, formazione, trasparenza e nuove tecnologie per il mercato del diamante. Nel 2014 abbiamo iniziato a trattare, sempre qui alla Fiera di Vicenza, questo tema. Nel 2016 abbiamo presentato la prima macchina che può individuare il diamante sintetico e oggi abbiamo continuato il nostro percorso presentando uno strumento che può non solo vedere il diamante sintetico, ma anche vederlo sui gioielli montati. Questo facilita moltissimo da parte di molti utenti l'analisi, per cui stiamo portando alla massa, al numero di persone, sempre più grosso, più grande come numero di persone, la possibilità di riconoscere i diamanti sintetici. Questo per noi è una grossa soddisfazione, soprattutto perché questa nostra iniziativa, questa nostra mission, diciamo, questa mia mission è fatta, è stata fatta e sarà fatta con un nome molto importante, The Biz Group of Companies. Questo per me mi rende molto orgoglioso perché comunque mi ha scelto come rappresentante del loro mission, che è quella proprio di cercare di arginare questo problema del sintetico. Mediante i corsi, per cui mediante la cultura, mediante gli strumenti e mediante anche corsi più complicati, corsi globali, che andremo a iniziare insieme. Per cui questo, diciamo, è stato un battesimo di una lunga e spero proficua collaborazione con The Biz Group of Companies. L'incontro ha permesso al pubblico di aumentare la propria coscienza etica al fine di condurre tutta la filiera verso una sempre più strutturata coscienza del diamante. Ce ne parla un rappresentante De Beers. I diamanti attorno al mondo sono prima di tutto investimento in emozioni. I diamanti naturali rappresentano la bellezza della natura e il suo saper lavorare per centinaia di anni per creare qualcosa di mangico e unico. Ma credo che la brillantezza e l'eticità del diamante, aggiunto alla sua rarità, siano importanti temi da tenere in considerazione, tanto quanto il tipo di utilizzo che se ne andrà a fare. Ancora una volta poi il tema del digitale entra preponderante nelle attività di confronto e di scambio tra tessuto produttivo e consumatore. Ecco il punto di vista dei giovani imprenditori. La trasformazione digitale è un tema che noi come giovani di confcommercio stiamo affrontando già da diversi anni, ponendo il punto su quello che è un focus del cambiamento che c'è passato all'interno delle nostre imprese, piccole o grandi che siano. Portarlo praticamente all'interno delle nostre attività commerciali significa far conoscere i nuovi strumenti tecnologici, significa soprattutto evolversi e formarsi dal punto di vista dell'utilizzo degli stessi strumenti tecnologici. Cerchiamo di dare il nostro punto di vista per quanto riguarda un cambio di passo generazionale che c'è stato anche all'interno delle imprese, del settore orafo con imprese che abbiamo familiari di 50, 60, 70 anni e poi cerchiamo di dare invece un impulso e un input a quelle che sono imprese di prima generazione, alle nuove start-up, quindi anche a ciò che è il settore dell'artigianato all'interno degli orafi che è comunque molto importante. Anche qui l'e-commerce sta dando dei risultati di primaria importanza. La celebrazione del bello e del ben fatto italiano è passata per il brand Giovanni Ferraris, vincitore del Couture Design Award 2017 nella categoria Editor's Choice. Il marchio è stato premiato per gli straordinari orecchini danzanti della collezione Titanium.